E' buona? Buona. Azione! Io la voglio più energica, tu sei quell'ascia, allora fammela sentire, ci stascia d'acqua. Allora, beh, questa la rifacciamo, molto pulita, molto tranquilla, per favore. Allora ragazzi, questa la rifacciamo, molto pulita, molto tranquilla, già facendo. E' un'estero che passo lo stesso. Stop! Stop! Ok, gara, il finale è incredibile. Facciamo un'altra. Basta, è schietto, l'era. Scusate dei commentini in più, se non è l'interessante. No, l'importante è sempre che a un certo punto lasci minora. Io ci siamo in fretta, ne avevo vincitato. Ogni volta continuavo a tirarci a pezzemno per schivare Angelino, e provavamo anche a dire le battute in tutto ciò. Quindi insomma l'effetto è stato... Facciamo come gli americati! Vabbè, ma adesso questa la faremo bene. Sono lacrime di gioia. La cosa delicata. Così ci stiamo, dai. Ci stiamo? Vai. Dai che giriamo ragazzi, questo è tutto campo. Buon momento. Siamo lasciati. Qua c'è qualcosa distante. Ok? Dai, 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 Carla, merci beaucoup. Daniele, un goccino, dai. Un goccino, sì. Vai, azione. No. Che pezzi. Cosa l'hai fatto, l'estardo? Che passo? Ti ho detto, un segno. No, però perché... Ah no, sì, sei in campo. Qua se io faccio questo. È buona? Cioè è buona, possiamo girare? Ok, posizione. Adesso vado a trovare la sua. Sì, sì. Penso alla chiave. Esatto, lì ti fermi, perché vedi... Ci prendiamo pure questa cosa, Chiara. Ti fermi perché vedi Wilmer. Ah, sì. Fai, vedi. Ed è scena. Ok. Quindi il tuo masterone stretto svile sarà questo. Va bene. Ok. Ok. Stop. Passo non velocissimo, eh. Deciso, ma non veloce. Azione. Lasciami! Lasciami! Mettimi giù! Ah! Ah! Mettimi giù! Lasciami! No! Stop! Stop! Lasciami! Stop! Certo, certo. Azione. Prendi quello. Quello! Silenzio. È buona? Buona. Azione. Cazzo! Stop! Dammi la battuta, Tonico. Ah, cazzo! Più forte? Più forte, sì. Sì, l'unica cosa è che allora vorrei che te interassi, perché io vorrei che uno pensa che pesa delle scale e di cesta facciata, ma invece è lui che brussa e gli salva la vita, capito? No, 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 no. Se te fai così, allora ti alzi. Sì, che ti siedi va bene, tra l'altro è pure meglio per l'inquadratità. Acriviti al canale. Allora. Grazie a tutti.